Non è che l'amministrazione comunale farà la commissione di indagine, è volontà di questa amministrazione fare una commissione di indagine, ma sarà il Consiglio Comunale che lo decide, perché comunque in base al regolamento c'è un articolo specifico che dice che sarà fatta una commissione, in casi particolari o non chiari può essere indetta una commissione di indagine formata da tre consiglieri di maggioranza e due di violenza, questo per mettere a conoscenza sia la stampa e comunque i cittadini di tutto ciò che è successo che forse non è tanto chiaro.